Il fantasma di Canterville. Romanza sacra e profana. Autore Oscar Wilde. Voce narrante di Marisa Vacca. Capitolo primo. Quando Mr. Hiram B. Otis, ministro degli Stati Uniti, acquistò Canterville Chase, tutti gli dissero che commetteva una grande sciocchezza, poiché non vi era dubbio di sorta che l'intera località non fosse letteralmente infestata dagli spiriti. Lo stesso Lord Canterville, persona scrupolosissima in materia d'onore, si era sentito in dovere di fargli presente la realtà dei fatti, quando si trovarono per discutere le condizioni di vendita. Neppure noi abbiamo più avuto il coraggio di abitarvi, spiegò Lord Canterville, da quando la mia prozia, la vecchia duchessa di Walton, si spaventò in modo tale che le prese un attacco di nervi dal quale non si riebbe mai completamente, per colpa di due mani scheletriche che le si posarono sulle spalle mentre si stava vestendo per scendere a pranzo. Mi sento tenuto a precisarle, Mr. Otis, che il fantasma è stato visto da diversi membri della mia famiglia, tuttora viventi, come pure del rettore della parrocchia, il reverendo August Dampier, che è membro del King's College di Cambridge. Dopo il disgraziato incidente e toccato alla duchessa, nessuna delle domestiche giovani volle più restare al nostro servizio, e persino Lady Canterville stentava a prendere sonno la notte a causa dei misteriosi rumori che provenivano dal corridoio e dalla biblioteca. Mio egregio lord, fu la risposta del ministro, sono disposto a comprare in un solo blocco su pellettili e fantasma. Io sono nato in un paese moderno, dove con il denaro si può acquistare tutto, e con i nostri intraprendenti giovani che dipingono di rosso il vostro vecchio mondo, e vi soffiano via le vostre migliori attrici e le vostre prime donne, sono certo che se in Europa esistesse davvero uno spettro, ce lo saremmo portato a casa nostra già da un pezzo, e lo avremo collocato in bella mostra in qualche museo o in qualche baracone da fiera. «Ho il convincimento che il fantasma esista realmente», replicò Lord Canterville sorridendo, per quanto può dirsi che abbia resistito alle offerte dei vostri dinamici impresari. È noto da tre secoli, anzi dal 1584 per essere esatti, e non manca mai di fare la sua comparsa prima della morte di un membro della nostra famiglia. «Beh, in quanto a questo non è da meno del medico di casa, Lord Canterville, ma io le dico che roba simile come spettri e fantasmi non esiste, e non credo che le leggi della natura subiscano speciali alterazioni per riguardo all'aristocrazia britannica». «Certo, in America siete tutti estremamente pratici», rispose Lord Canterville, che non aveva pienamente afferrato il senso dell'ultima frase detta da Mr. Otis. «E se non le importa di avere uno spettro in casa, per me fa lo stesso. Però la prego di tenere presente che io l'ho avvertita». Poche settimane dopo questo colloquio, la comprebendita del castello fu perfezionata, e al termine della stagione il ministro e la sua famiglia andarono a stabilirsi a Canterville Chase. Miss Otis, quando era la signorina Lucrezia R. Tappan della 53esima strada Ovest, era stata una famosa bellezza nuova yorkese. Ora era un'avvenente donna di mezza età, con due occhi magnifici e un profilo superbo. Molte signore americane, non appena abbandonano il loro paese natale, adottano un'apparenza di semi-infermità cronica, forse ritenendo che ciò sia una forma di raffinatezza europea. Miss Otis non era mai caduta in questo errore. Godeva di una salute di ferro e possedeva una vera miniera di meravigliosi istinti animali. A dire il vero, sotto molti punti di vista, poteva essere scambiata per un'inglese autentica. Costituiva un fulgido esempio del fatto che noi, in realtà, abbiamo tutto in comune con gli americani, fuorché naturalmente il linguaggio. Suo figlio maggiore, battezzato Washington dai genitori in un momento di patriottismo, di cui egli non cesò mai di rammaricarsi, era un ragazzo biondo, mica male fisicamente, che si era fatto strada nella diplomazia americana ballando i waltzer tedeschi per tre stagioni consecutive al casino di Newport. Ed anche a Londra era ben noto come ottimo ballerino. Le sue sole debolezze erano le gardenie e i titoli nobiliari. Per il resto era un ragazzo di grande buonsenso. Miss Virginia E. Otis Era una ragazzina di 15 anni, graziosa e fragile come una cerbiatta, con una bella espressione di sicurezza ed indipendenza nei grandi occhi azzurri. Era una meravigliosa mazzone e aveva corso due volte in gara con Lord Bolton attorno al parco, superandolo di una lunghezza e mezza, proprio di fronte alla statua di Achille, e suscitando un entusiasmo indescrivibile nel giovane duca di Keshire, che le si era dichiarato seduta stante ed era stato rimandato a Eton quella sera stessa dai suoi tutori, in un torrente di lacrime. Dopo Virginia venivano i gemelli, soprannominati di solito stelle e strisce, per la rapidità vertiginosa dei loro movimenti. Erano due ragazzi simpaticissimi e, con la sola eccezione del degno ministro, i soli veri repubblicani della famiglia. Poiché Canterville Chase dista Settemiglia da Ascot, che è la stazione ferroviaria più vicina, Mr. Otis aveva telegrafato perché venissero a prenderli con una giardiniera. E tutta la famiglia si accomodò di ottimo umore sui sedili per la breve scarrozzata. Era una deliziosa sera di giugno e l'aria era fragrante del profumo acuto dei pini, di quando in quando si udiva il dolce richiamo del colombo selvatico o si intravedeva, affondato tra le felci fruscianti, il petto dorato di un fagiano. Gli scoiattoli occhieggiavano incuriositi al loro passaggio dall'alto dei faggi e i conigli scucretolavano via per il sottobosco e su per i poggi erbosi le candide code all'aria. Non appena gli Otis ebbero imboccato il viale di Canterville Chase, il cielo si coprì improvvisamente di nuvole fosche. Una strana immobilità parve imprigionare l'aria. Un gran volo di corvi passò silenzioso sul loro capo e prima che raggiungessero la dimora grosse gocce di pioggia incominciarono a cadere. A riceverli sulla soglia del castello trovarono una vecchia donna vestita lindamente di seta nera con una cuffia e un grombiule bianco. Era la signora Humney, la governante che Mr. Otis aveva consentito a tenere al proprio servizio per espressa richiesta di Lady Canterville. La signora Humney fece a ciascuno un profondo inchino mentre scendevano di vettura e disse loro con un garbo compito e antiquato vi auguro il benvenuto a Canterville Chase. Seguendo i suoi passi i membri della famiglia Otis passarono dal bel vestibolo in stile Tudor nella biblioteca che era una sala lunga e bassa rivestita di quercia nera all'estremità della quale si trovava una grande finestra istoriata. Il tè era già apparecchiato su un tavolino e quelli, dopo essersi tolti gli spoverini da viaggio presero a guardarsi intorno mentre la signora Humney si occupava di loro. A un tratto la signora Otis notò una macchia di colore rosso opaco che imbrattava il pavimento proprio vicino al caminetto e senza rendersi minimamente conto di quel che in realtà significasse la ditò alla signora Humney soggiungendo «Credo che laggiù sia stato versato qualcosa». «Infatti, signora», rispose la vecchia governante sottovoce «è stato versato del sangue in quel punto». «Che orrore!» gridò la signora Otis «non mi piace affatto che ci siano macchie di sangue in un salotto bisogna farle togliere immediatamente». La vecchia sorrise e disse con lo stesso tono di voce basso e misterioso «è il sangue di Lady Eleanor de Canterville che fu assassinata in quel punto preciso dal proprio marito, Sir Simon de Canterville». Sir Simon le sopravvisse di nove anni e poi scomparve subitamente in circostanze assai misteriose. Il suo corpo non è mai stato rinvenuto ma il suo spirito peccatore vaga tuttora per il castello. La macchia di sangue è stata sempre molto ammirata da turisti e visitatori e non è possibile toglierla». «Quante storie!» gridò Washington Otis «il super smacchiatore detersivo incomparabile Pinkerton la farà scomparire in due secondi». E prima che la governante terrorizzata avesse il tempo di aprire bocca il giovanotto era già per terra e stava fregando energicamente il pavimento con un bastoncino che pareva una specie di cosmetico nero. Effettivamente pochi istanti dopo ogni traccia di sangue era scomparsa. «Ero sicuro che il Pinkerton avrebbe dato un risultato immediato» esclamò il giovane trionfante lanciando occhiate di soddisfazione ai congiunti che lo guardavano ammirati. Ma aveva appena proferite queste parole che un tremendo guizzo di folgore luccicò nella sala buia e un pauroso scoppio di tuono li fece balzare in piedi. La signora Humney svenne. «Che clima spaventoso!» osservò calmo il ministro accendendosi un lungo sigaro. «Credo dipenda dall'eccesso di popolazione che affligge il vecchio continente e non permette una distribuzione uniforme per tutti i fenomeni atmosferici. Io sono sempre stato del parere che soltanto l'emigrazione può rimettere in sesto l'Inghilterra». «Mio caro Hiram!» esclamò la moglie. «Che cosa ce ne facciamo di una donna che sviene alla minima sciocchezza?» «Trattieniglielo sullo stipendio come faresti per qualche rottura» le rispose il ministro. «Vedrai che non svenirà più d'ora in poi». E infatti di lì a pochi istanti la signora Humney si riebbe di colpo. La povera donna era indubbiamente fuori di sé e con rotte parole supplicò il signor Otis di stare in guardia che qualche guaio grosso si preparava a colpire il castello. «Ho visto cose terribili con questi miei poveri occhi, signore. Cose che farebbero rizzare i capelli in testa ad ogni buon cristiano e quante notti insonni ho passato per i fenomeni spaventosi che si verificano in questa casa». Sia Mr. Otis che sua moglie rassicurarono la brava donna che essi non avevano nessunissima paura degli spettri cosicché dopo aver invocato le benedizioni della providenza sui suoi nuovi padroni ed essersi messa d'accordo con loro per un aumento di salario la vecchia governante si ritirò a passi barcollanti nella propria camera. Fine del primo capitolo Capitolo secondo Il temporale imperversò furioso tutta la notte ma non accade nulla di notevole. La mattina seguente tuttavia quando scesero per la prima colazione trovarono che la spaventosa macchia di sangue era ricomparsa sul pavimento. Non credo possa essere colpa del super detersivo osservò Washington perché l'ho provato con tutto e mi ha sempre dato risultati perfetti. Deve essere stato il fantasma. Di conseguenza fregò via la macchia una seconda volta ma ecco che la seconda mattina era comparsa di nuovo. e ci fu anche la terza mattina benché la biblioteca fosse stata chiusa a chiave la notte da Mr. Otis in persona il quale aveva poi portato via la chiave con sé. Tutta la famiglia cominciava ormai a interessarsi seriamente alla faccenda. A Mr. Otis venne il sospetto di essere stato forse un po' troppo dogmatico nel negare l'esistenza dei fantasmi. Miss Otis espresse l'intenzione di farsi socia dell'associazione psichica e Washington stilò una lunga lettera per i signori Mayers e Pomodor sulla permanenza delle macchie sanguigne allorché queste siano connesse con qualche delitto. Quella notte ogni dubbio intorno all'effettiva esistenza dei fantasmi fu dissipato per sempre. Il giorno era stato caldo e soleggiato e quando verso sera l'aria rinfrescò la famiglia Otis uscì in massa per una scarrozzata. Non rincasarono che alle nove e consumarono un pasto leggero. Durante la conversazione non fu fatto il benché minimo accenno a spettri e fantasmi di modo che mancavano anche quelle condizioni primarie di attesa ricettiva che spesso precedono il verificarsi di fenomeni psichici. Come mi narrò in seguito Mr. Otis il discorso cadde su quegli argomenti che formano di solito il nocciolo della conversazione tra gli americani colti delle classi superiori come ad esempio l'enorme superiorità qualiatrice della signorina Fanny Davenport al confronto di Sarah Bernard La difficoltà di trovare grano turco acerbo focacce di sorgo e pannocchie bollite nel latte anche nelle migliori case inglesi L'importanza di Boston sullo sviluppo dell'anima universale I vantaggi del bagaglio assicurato nei viaggi per ferrovia e la dolcezza dell'accento di Nueva York in paragone alla pronuncia strascicata dei londinesi Non si parlò neppure lontanamente di cose sopranaturali e tantomeno fu fatta alcuna allusione a Sir Simon de Canterville Alle undici la famiglia si ritirò e alle undici e mezzo tutte le luci erano spente Poco tempo dopo Mister Otis venne però risvegliato da un curioso rumore che proveniva dal corridoio proprio davanti all'uscio di camera sua risuonava come uno strudore di metallo che pareva farsi sempre più vicino ad ogni istante il ministro si alzò senta indugi accese un fiammifero e guardò l'orologio era luna esatta si sentiva calmissimo e si tastò il polso per accertarsi di non essere febbricitante lo strano rumore continuava accompagnato ora da un distinto strasciccare di passi il ministro si infilò le pantofole tolse dal cassetto del tavolino da notte una minuscola fiala di forma oblunga e aprì la porta diritto davanti a sé vidergersi nelle sangue luce lunare un uomo dall'aspetto spaventoso aveva gli occhi rossi come due carboni ardenti lunghi capelli grigi gli ricadevano per le spalle in ciò che incolte e le vesti di foggia antica erano tutte lacere e imbrattate dai polsi e dalle caviglie infine gli pendevano pesanti manette e ceppi arrugginiti e greggio signore incominciò mister Otis sono costretto a pregarla di oliare un po' come si deve quelle sue catene e le ho portato a questo scopo una bottiglietta di lubrificante solare Tammany me lo hanno garantito efficacissimo fin dalla prima applicazione e potrà leggere parecchie testimonianze ad hoc riportate sul foglietto di propaganda da parte di alcuni tra i nostri più eminenti teologi glielo lascio qui per suo uso accanto alle candele della camera da letto e sarò felicissimo di forniglierne dell'altro qualora ne avesse bisogno con queste parole il ministro degli stati uniti imposò la bottiglietta su un tavolo di marmo chiuse la porta e si ritirò a riposare per un attimo il fantasma di Canterville rimase letteralmente paralizzato dallo sdegno quindi dopo aver gettato con violenza la fiala sul lucido pavimento svolazzò per il corridoio gemendo cupamente ed emanando una verde luce spettrale proprio nel momento in cui giungeva al sommo della grande scalinata di quercia ecco che un uscio si spalancò lasciando intravedere sulla soglia due figure bianco vestite e un grosso guanciale passò sibilando ad un pelo della sua testa non c'era evidentemente tempo da perdere perciò adottando in tutta fretta la quarta dimensione come unica via di scampo lo spettro svanì attraverso il rivestimento di legno della parete restituendo alla casa quiete e silenzio come ebbe raggiunta una piccola stanza segreta nell'ala sinistra del castello si appoggiò a un raggio di luna onde riprendere fiato e incominciò a riflettere sulla propria situazione mai mai nella sua brillante ed ininterrotta carriera tricentenaria egli era stato così grossolanamente insultato ripensò alla vecchia duchessa da lui spaventata al punto di farla cadere in un attacco isterico mentre si ammirava davanti allo specchio nei suoi pizzi e nei suoi diamanti pensò alle quattro cameriere che aveva fatto uscire di senno semplicemente sghignazzando alle loro spalle da dietro le tendine del guardaroba ripensò al rettore della parrocchia al quale aveva spento la candela una notte che usciva tardi dalla biblioteca e che da quella volta aveva dovuto essere affidato alle cure di Sir William Gould divenuto com'era un misero essere sempre in preda a gravissime turbe nervose e che dire della vecchia signora di Tremouillac la quale essendosi svegliata presto un mattino e avendo visto uno scheletro seduto in poltrona accanto al caminetto intento a leggere il suo diario era stata costretta a letto per ben sei settimane da un attacco di febbre cerebrale e non appena ristabilita si era riconciliata con la chiesa e aveva rotto ogni rapporto con quel noto scettico che era il signor Voltaire ripensò alla notte da tregenda in cui il malvagio lord Canterville fu trovato rantolante nel proprio spogliatoio con il fante di quadri mezzo infilato nella gola e confessò sul punto di morire di aver sottratto a Charles Fox 50.000 sterline al casino di Crockford precisamente grazie a quella carta e giurò che era stato il fantasma a fargliere ingoiare le sue grandi imprese gli tornarono tutte alla mente dal maggiordomo che si era ucciso nella dispensa con un colpo di pistola per aver visto una mano verde battere contro i vetri della finestra alla bellissima Lady Staffield costretta a portare sempre annodato al collo un nastro di velluto nero per nascondervi l'impronta che cinque dita di fuoco le avevano lasciato sulla candida pelle e che alla fine si era annegata nello stagno del carpe in fondo al viale del re con l'egotismo entusiastico dell'artista nato riandò col pensiero alle sue trasformazioni più famose e sorrise amaramente tra sé rammentando la sua ultima apparizione sotto le spoglie di Ruben il Rosso ovvero l'infante strangolato il suo debut nella personificazione di Gibeone l'allampanato e il furore che aveva suscitato in una languida sera di giugno limitandosi a giocare a birilli con le proprie ossa sul terreno del campo di tennis ebbene dopo tutte queste gesta dovevano venire quattro miserabili americani moderni a offrirgli del lubrificante solare e a buttargli dei cuscini in testa era una situazione assolutamente insopportabile d'altronde mai nessun fantasma nel corso della storia era stato trattato in quel modo decise pertanto di vendicarsi adeguatamente e rimase immerso sino allo spuntare del giorno in un atteggiamento di profonda meditazione fine del secondo capitolo capitolo terzo allorché i componenti della famiglia Otis si riunirono il mattino successivo intorno al tavolo della prima collazione la questione del fantasma venne discussa particolare giatamente come era naturale il ministro degli stati uniti era piuttosto seccato che il suo dono fosse stato accolto con tanto malgarbo io non ho l'intenzione disse di recargli alcuna offesa personale e se si considera il lunghissimo periodo di tempo da cui egli è ospite di questa casa trovo che non sia affatto educato a coglierlo con scariche di cuscini osservazione molto giusta e saggia alla quale mi dispiace di doverlo ammettere i gemelli scoppiarono in omeriche risate d'altro canto proseguì il ministro se lui si ostina a non adoperare il lubrificante solare ci vedremo costretti a togliergli le catene perché sarebbe impossibile dormire altrimenti con quel chiasso tremendo proprio a due passi dalle stanze da letto il resto della settimana trascorse senza che essi venissero più disturbati l'unico fenomeno che seguitava ad attrarre la loro attenzione era il continuo rinnovarsi della macchia di sangue sul pavimento della biblioteca questo era certamente un fatto inesplicabile dato che la porta della biblioteca veniva chiusa a chiave ogni sera da mister Otis in persona e le finestre ermeticamente sbarrate dall'interno lo stesso colore per così dire camaleontico della macchia era di per sé sconcertante e dava adito ad un mucchio di commenti alcune mattine era di un rosso cupo quasi indiano altre volte diventava vermiglia poi trascolorava in fosca porpora e un giorno che si erano riuniti in biblioteca per la preghiera comune secondo il semplice rito della libera chiesa episcopale americana riformata la trovarno trasformata in un bel verde smeraldo questi mutamenti galleidoscopici come era logico divertivano moltissimo tutti quanti e ogni sera davano luogo scommesse l'unica persona che non prendesse parte a quegli spassi era la piccola virginia che chissà per quale inesplicabile motivo appariva sempre molto preoccupata alla vista della macchia di sangue e il mattino che la trovò color verde smeraldo quasi quasi si mise a piangere il fantasma fece la sua seconda comparsa nella notte della domenica erano da poco andati a letto quando intesero un pauroso fracasso nel vestibolo si precipitarono tutti di sotto e constatarono che un'enorme antichissima armatura si era staccata dal suo supporto ed era caduta sul pavimento di pietra mentre il fantasma di canterville seduto su una poltrona dall'alto schienale si stava soffregando le ginocchia con un'espressione di acuta sofferenza dipinta sul volto i gemelli che erano venuti armati dai loro scacciacani si affrettarono a sparargli addosso due scariche di pallottoline con quella precisione di mira che si può ottenere soltanto dopo lunghe attente esercitazioni sul proprio maestro di calligrafia mentre il ministro degli stati uniti gli puntò addosso il revolver e seguendo le regole dell'etichetta californiana gli ingiunse di alzare le mani il fantasma balzò in piedi con un urlo inumano di rabbia e guizzò tra loro dileguò come una nebbia spegnendo al suo passaggio la candela che Washington Otis teneva in mano e lasciandoli così immersi in una oscurità completa arrivato che fu in cima alle scale si riprese e decise di prorompere nel suo celebre scroscio di risa demoniache queste gli erano state estremamente utili in più di un'occasione si dice che avessero fatto diventare grigia in una sola notte la parrucca di Lord Raker e comunque era un fatto che per causa loro ben tre governanti francesi di Lady Canterville si erano licenziate prima della fine del mese di prova pertanto rise il suo terribile riso finché l'antica volta non risuonò ripetutamente in ogni recesso ma la sua eco paurosa si era appena spenta che un uscio si aprì e Miss Otis si avvicinò avvolta in una veste da camera azzurro chiaro dicendo ho proprio paura che lei non stia affatto bene perciò le ho portato una bottiglia di tintura di dottor Dobel se si tratta di un'indigestione lo troverà un rimedio veramente ottimo il fantasma le lanciò un'occhiata satanica di indignazione e incominciò subito a fare i preparativi necessari per potersi trasformare in un enorme cane nero una bravura per la quale era giustamente rinomato e alla quale il medico di famiglia aveva sempre attribuito l'idiozia congenita dello zio di Lord Canterville l'onorevole Thomas Orton ma un rumore di passi che si avvicinavano lo fece recedere dal suo bieco proposito e si accontentò pertanto di diventare appena appena fosforescente dileguandosi con un profondo e funerio gemito proprio nel momento in cui i gemelli stavano per piombargli addosso come egli fu nella sua stanza le forze lo abbandonarono e cadde in preda ad una violenta agitazione la vulgarità dei gemelli e il rozzo materialismo della signora Otis erano si capisce molto spiacevoli ma ciò che lo rendeva addirittura disperato era l'aver dovuto constatare di non essere stato capace di indossare la cotta di maglia aveva sperato che persino degli americani moderni si sarebbero emozionati a vedere uno spettro in armatura se non per altro motivo almeno per rispetto del loro poeta nazionale Longfellow sulle cui poesie così piene di grazia e di fascino egli stesso si era intenerito nelle lunghe ore d'ozio mentre i Canterville erano in città era la sua armatura per giunta l'aveva indossata al torneo di Kenningworth e ne era stato molto complimentato niente di meno che dalla regina vergine in persona tuttavia non appena aveva tentato di mettersela poc'anzi il peso dell'enorme corazza e dell'elmo di acciaio lo avevano completamente sopraffatto ed era caduto pesantemente sul pavimento di pietra sbucciandosi le ginocchia e ammaccandosi seriamente le nocche della mano destra dopo questa disavventura si ammalò gravemente per diversi giorni e non abbandonò la propria stanza se non per tenere in efficienza la macchia di sangue alla fine però a forza di curarsi si rimise in salute e decise di compiere un terzo tentativo per spaventare il ministro degli Stati Uniti e la sua famiglia scelse il 17 agosto che cadeva di venerdì per fare la sua comparsa e passò quasi l'intera giornata a rivedere il proprio guardaroba infine la sua scelta cadde su un grande cappello con la tesa all'ingiù ornato di una piuma rossa di un sudario sfrangiato ai polsi e al collo e di una daga arrugginita verso sera scoppiò un violento temporale accompagnato da pioggia e il vento era così furibondo che tutte le porte e le finestre del vecchio castello tremavano con gemiti e scricchioli paurosi ed era un tempo infernale proprio come piaceva lui il suo piano d'azione era il seguente sarebbe entrato piano piano nella camera di Washington Otis gli avrebbe borbottato parole sconnesse dai piedi del letto poi si sarebbe pugnalato per tre volte alla gola al suono di una musica insordina nutriva contro Washington un rancore particolare sapendo perfettamente che era lui a togliere ogni giorno la famosa macchia di sangue dei Canterville grazie a quel suo maledetto detersivo incomparabile Pinkerton dopo aver ridotto in uno stato di indicibile terrore quel giovane incosciente scapestrato sarebbe passato nella stanza occupata dal ministro degli Stati Uniti e da sua moglie dove avrebbe posato sulla fronte della signora Otis una mano umidiccia mentre avrebbe sibilato nelle orecchie del suo tremebondo marito gli orrendi segreti della cappella mortuaria in quanto alla piccola Virginia non aveva ancora deciso sul da farsi in fondo essa non l'aveva mai né offeso né insultato ed era graziosa e gentile pochi gemiti cavernosi dal guardaroba pensò sarebbero stati più che sufficienti oppure se non fosse riuscito a svegliarla le avrebbe grattato la trapunta del letto con dita tremanti di paralisi ai gemelli invece era ben deciso a impartire una lezione coi fiocchi per prima cosa naturalmente si sarebbe seduto sui loro stomachi in modo da provocare la sensazione soffocante dell'incubo poi dato che avevano i letti vicini si sarebbe messo in mezzo assumendo l'aspetto di un cadavere verde e freddo come il ghiaccio finché quelli si fossero sentiti immobilizzati dal terrore e infine avrebbe gettato il sudario e si sarebbe messo a strisciare per la stanza con ossa calcinate e un'unica pupilla roteante nella personificazione di Daniele il muto ovvero lo scheletro del suicida Roll nel quale più di una volta era stato di effetto strepitoso e che egli considerava in tutto e per tutto eguale alla sua celebre creazione di Martino il Maniaco ovvero il mistero mascherato alle dieci e mezza udì la famiglia che andava a coricarsi fu disturbato per un certo tempo da urla e sghignazzate selvagge i gemelli naturalmente i quali si stavano certamente divertendo prima di mettersi a dormire ma alle undici e un quarto tutta la casa era immersa nel silenzio e come scoccò la mezzanotte egli uscì dal suo rifugio il gufo picchiava il suo becco adunco contro le invetriate il corvo gracchiava appollaiato in cima all'antico tasso il vento errava gemendo attorno al castello come un'anima in pena ma la famiglia Otis dormiva inconsapevole della propria sorte e alto sopra i rumori della pioggia e della tempesta il fantasma pote distinguere il sonoro russare del ministro degli stati uniti emerse cautamente dal pannello di legno che rivestiva la prete con un sorriso malvagio sulla bocca avvizzita e crudele e la luna si nascose la faccia dietro ad una nuvola mentre egli passava davanti al finestrone dove le sue insegne e quelle di sua moglie assassinata splendevano in campo azzurro e oro avanti avanti egli procedette scivolando silenzioso come un'ombra malefica e la stessa tenebra parve in orridire al suo passaggio ad un certo momento gli sembrò di udire un appello lontano e si fermò ma non era che l'abbaiare di un cane della cascina rossa ed egli riprese ad avanzare borbottando strane maledizioni del sedicesimo secolo e brandendo di quando in quando la daga rugginosa nell'aria notturna giunse infine all'angolo del corridoio che conduceva nella camera dello sfortunato Washington sostò per un istante il vento gli faceva svolazzare intorno al capo le lunghe ciocche grigie e scompigliava in pieghe fantastiche grottesche l'orrore senza nome del suo sudario quindi la pendola sonò il quarto ed egli comprese che l'ora era venuta ridacchiò tra sé lugubramente e svoltò l'angolo ma subito cadde all'indietro con un gemito spaventoso di lamento e si nascose la faccia sbiancata tra le mani lunghe ossute proprio davanti a lui si ergeva uno spettro mostruoso immobile come un'immagine scolpita e allucinante come il sogno di un pazzo aveva il cranio calvo e lucido e un riso osceno pareva gli avesse distorto i lineamenti in un ghigno perpetuo dagli occhi uscivano bagliori di luce scarlatta la bocca era un vasto gorgo di fuoco e un lenzuolo ributtante simile al suo ammantava delle sue nevi silenti le forme titaniche sul petto recava una scritta vergata in caratteri antichi un cartiglio d'infamia pareva chissà quale testimonianza di peccati orrendi quale spaventoso calendario di delitti e alto nella mano destra impugnava un falciuolo d'acciaio scintillante non avendo mai visto uno spettro in vita sua era troppo logico che il povero fantasma ne fosse terribilmente spaventato e dopo un'altra fuggevole occhiata alla paurosa apparizione fuggì precipitosamente nella propria stanza inciampando nel sudario mentre correva lungo il corridoio e alla fine lasciò cadere la spada negli stivaloni da caccia del ministro dove fu trovata dal maggiordomo l'indomani mattina una volta al sicuro nel segreto del proprio appartamento si lasciò cadere sul letto un modesto pagliericcio e nascose la faccia sotto le coperte dopo qualche tempo l'antico spirito dei canterville ebbe infine il sopravvento in lui ed egli decise che sarebbe andato a parlamentare con l'altro fantasma non appena fosse spuntata l'alba perciò proprio mentre l'aurora stava tingendo d'argento le cime dei colli ritornò nel punto in cui i suoi occhi si erano posati per la prima volta sulla truce apparizione poiché aveva riflettuto che dopo tutto due fantasmi valgono meglio di uno solo e che forse con l'aiuto del suo nuovo amico avrebbe potuto agire con maggiore efficacia contro i gemelli come fu giunto all'angolo del corridoio uno spettacolo terribile si offrì alla sua vista qualcosa doveva certamente essere accaduto allo spettro perché la luce era del tutto scomparsa dalle sue occhiaie vuote il falciuolo luccicante gli era caduto di mano ed esso se ne stava appoggiato contro il muro in una postura molto scomoda ed innaturale il fantasma diede un balzo e lo afferrò tra le braccia ma con suo grande orrore la testa si staccò dal busto e scivolò a terra il corpo assunse una posizione recline ed egli si trovò a stringere una tenda da letto in cotonina bianca con una scopa un coltellaccio da cucina e una zucca vuota ai piedi incapace di comprendere questa strana trasformazione si impadronì con ansia febbrile della scritta misteriosa ed ecco che nel grigio chiarore del mattino poté leggere queste inquietanti parole spettro degli otis unico fantasma autentico e originale guardarsi dalle imitazioni tutti gli altri sono contraffatti una grande luce si formò in lui dunque era stato giocato battuto messo alla berlina il vecchio sguardo dei canterville gli balenò negli occhi fece scricchiolare l'una contro l'altra le gengive sdentate e levando alte sopra il capo le mani vizze giurò secondo la pittoresca frasiologia dell'antica scuola che allorquando il cantachiaro avesse fatto eccheggiare due volte il suo allegro squillo imprese di sangue sarebbero state ordite e l'omicidio si sarebbe aggirato per la contrada con passi felpati aveva appena terminato di proferire questo terribile giuramento che dal tetto ricoperto di tegole rosse di un lontano cascinale un gallo cantò il fantasma rise a lungo sommesso amaro riso e attese attese per lunghe ore ma il volatile chi sa per quale motivo non cantò la seconda volta infine alle sette e mezzo il sopraggiungere delle cameriere lo costrinse ad abbandonare la sua veglia minacciosa ed egli ritornò incespicando di stanchezza nella propria camera rimuginando sulle sue vane speranze e sui suoi propositi così miseramente frustrati prese poi a consultare vari libri di cavalleria antica e scoprì che in ogni occasione in cui quel giuramento era stato pronunciato canta chiaro aveva cantato sempre una seconda volta che il malanno colga quel dannato volatile borbottò è tramontato il giorno in cui con la mia fiera lancia gli avrei trapassata la gola e lo avrei fatto cantare per me nell'angoscia della morte quindi si ritirò entro un comodo sarcofago di piombo dove rimase a riposare fino a tardasera fine del terzo capitolo capitolo 4 il giorno seguente il fantasma si sentì molto debole e stanco la tremenda eccitazione di quelle ultime quattro settimane incominciava a produrre i suoi effetti aveva i nervi terribilmente scossi e trassaliva al minimo rumore si barricò in camera sua per cinque giorni consecutivi e alla fine decise di rinunciare al puntiglio della macchia di sangue sul pavimento della biblioteca dopo tutto se la famiglia Otis non ne voleva sapere era segno che non se lo meritava si trattava chiaramente di individui appartenenti a un piano di esistenza basso e materialistico del tutto incapaci di apprezzare il valore simbolico dei fenomeni sensibili la questione delle apparizioni spettrali e lo sviluppo dei corpi astrali era si capisce una faccenda completamente diversa che sfuggiva al suo controllo era suo preciso dovere apparire nel corridoio una volta alla settimana e borbottare parole sconnesse presso il grande finestrone il primo e il terzo mercoledì di ogni mese e non vedeva come avrebbe potuto onorevolmente sottrarsi a questi obblighi era verissimo che la sua era stata una vita malvagia ma in tutte le cose attinenti al sopranaturale era di una coscienziosità estrema pertanto nei tre sabati successivi seguitò ad attraversare come al solito il corridoio tra la mezzanotte e le tre del mattino prendendo tutte le precauzioni per non essere né visto né udito si tolse gli stivali cercò di camminare il più levemente possibile sulle vecchie tavole del pavimento rose e daitarli si avvolse in un ampio mantello di velluto nero e fece uso del lubrificante solare per oliare le sue catene devo ammettere che il povero fantasma si rassegnò ad adottare quest'ultimo mezzo di protezione soltanto dopo lunghe esitazioni ma una notte mentre la famiglia dormiva entrò di soppiatto nella camera di mister Otis e ne asportò la bottiglia a tutta prima si sentì un poco umiliato ma aveva in definitiva sufficiente buonsenso per riconoscere che si trattava di un ritrovato tutt'altro che disprezzabile e che in un certo qual modo serviva al suo scopo ma nonostante tutti questi riguardi non era certo lasciato in pace incappava sempre in corde tese da una parte all'altra del cordoio nelle quali inciampava il buio e una volta che si era vestito nel costume di Isacco il nero ovvero il cacciatore della foresta di Ogli cadde malamente per essere scivolato su un piano inclinato tutto cosparso di burro che i gemelli avevano avuto cura di costruire dall'ingresso della sala delle tapezzerie fino alla sommità della scalinata di quercia quest'ultimo insulto lo mise in un furore tale che risolse di compiere un ultimo sforzo per tentare di affermare la propria dignità e la propria posizione sociale e decise di far visita a quei due sfacciati studentelli di Hayton la notte seguente nel suo celebre personaggio di Rupert il temerario ovvero il conte decapitato erano più di settant'anni che non faceva la sua apparizione in quel travestimento da quando precisamente aveva talmente spaventato la graziosa Lady Barbara Modish che questa aveva rotto il proprio fidanzamento con il nonno dell'attual Lord Canterville ed era scappata a Gretna Green con il bellissimo Jack Castleton dichiarando che per nulla al mondo si sarebbe rassegnata ad imparentarsi a una famiglia che permetteva ad un fantasma tanto mostruoso di passeggiare su e giù per la terrazza all'ora del crepuscolo il povero Jack era stato in seguito ucciso in duello da Lord Canterville a Wentworth Common e Lady Barbara era morta di crepacuore a Tunbridge Wales prima della fine di quell'anno cosicché tutto sommato il suo era stato un enorme successo si trattava però di un trucco estremamente difficile se è lecito ad operare un'espressione del gergo teatrale a proposito di uno dei più grandi misteri del sopranaturale o per usare un termine più scientifico dell'universo extranaturale egli ci vollero tre ore buone per i preparativi alla fine ogni cosa fu pronta ed egli si sentì molto soddisfatto del suo aspetto i grossi stivali di cuoio intonati al vestito erano un tantino troppo grandi per lui e delle due pistole da sella che gli sarebbero servite non poté trovarne che una sola ma nel complesso era contento perciò all'una e un quarto scivolò silenziosamente fuori del rivestimento di legno della parete e si avviò strisciando lungo il corridoio arrivato alla stanza occupata dai gemelli che si ha detto tra parentesi si chiamava la camera da letto azzurra a causa del colore dei suoi cortinaggi trovò l'uscio socchiuso desiderando fare un ingresso teatrale la spalancò del tutto con un gran colpo ma nello stesso momento un'enorme brocca d'acqua gli cade addosso bagnandolo fino alla midolla e soltanto per qualche centimetro la sua spalla sinistra non fu colpita in pieno contemporaneamente si sentirono dal gran letto a due piazze risatine e squitti di allegria soffocati a stento tra le coperte la scossa portata al suo sistema nervoso fu talmente forte che il poveretto volò alla propria camera più svelto che poté e il giorno dopo dovette starsene a letto con un raffreddore tremendo la sola cosa che lo consolava un poco in quella triste faccenda era il fatto che per fortuna non si era portato la testa con sé perché in caso contrario le conseguenze sarebbero state molto più gravi da quella notte rinunciò ad ogni ulteriore tentativo di incutere spavento a quella volgare famiglia americana e si accontentò di regola di strisciare nei corridoi calzato di pianelle dalla suola di feltro con una grossa sciarpa di lana rossa al collo per timore delle correnti d'aria e un minuscolo archibugio in caso di attacco da parte dei gemelli ma l'ultimo colpo che egli doveva essere costretto a subire gli capitò il 19 settembre era sceso nel grande vestibolo centrale sicuro che lì almeno nessuno lo avrebbe molestato e si stava divertendo a fare commenti satirici in pectore sulle grandi fotografie del ministro degli stati uniti e di sua moglie che avevano adesso preso il posto dei ritratti della famiglia di canterville era avvolto semplicemente ma lindamente in un lungo sudario maculato qua e là con terra di cimitero si era legata alla mascella con una striscia di lino giallo e ricava in spalla una piccola lanterna e una vanga da becchino si era abbigliato infatti per la parte di jack l'affossatore ovvero il ladro di cadaveri di chertsey barn una delle sue interpretazioni più notevoli interpretazioni che i canterville avevano tutte le ragioni di ricordare perfettamente perché da essa aveva avuto origine in realtà la lite con il loro vicino lord rudolf erano circa le due un quarto del mattino e per quanto aveva potuto controllare nella casa tutto era quiete e silenzio ma mentre si stava avviando passo passo in biblioteca per vedere se vi era rimasta qualche traccia della macchia di sangue ecco che improvvisamente gli sbucarono addosso da un angolo buio due figure che agitavano selvaggiamente le braccia sopra il capo e gli fecero buuuu nell'orecchio colto da un panico anche troppo naturale date le circostanze corse a precipizio su per le scale ma ecco anche lì Washington Otis ad aspettarlo con in mano la grossa pompa che serviva ad annaffiare il giardino sentendosi braccato da ogni parte dai propri nemici e quasi sul punto di soccombere fece appena in tempo ad eclissarsi nella grande stufa di ferro che fortunatamente per lui non era accesa e fu costretto a mettersi in salvo per la strada dei comignoli e dei tetti giungendo nella propria camera in uno stato pietoso di sporcizia di disordine e di disperazione dopo di ciò non fu più visto in nessuna spedizione notturna i gemelli gli fecero la posta per parecchio tempo cospargendo ogni notte i corridoi di gusci di noce con grande fastidio dei servitori e dei familiari ma senza alcun risultato era stato talmente ferito nei suoi sentimenti più intimi che disdegnava ormai di apparire era evidente di conseguenza mister Otis riprese a redigere la sua storia del partito democratico un'opera grandiosa alla quale lavorava da anni miss Otis organizzò una festa campestre meravigliosa che stupì tutta la regione i ragazzi si dedicarono al lacrosse al poker e ad altri giochi nazionali americani e Virginia cavalcò per i prati sul suo puledro accompagnata dal giovane duca di Keshire che era venuto a Canterville Chase a trascorrere l'ultima settimana di vacanza era opinione generale che il fantasma fosse scomparso e mister Otis scrisse una lettera a questo proposito a Lord Canterville il quale rispose esprimendo il proprio compiacimento per la notizia e inviò le sue sentite congratulazioni alla gentile consorte del ministro gli Otis in realtà si ingannavano perché il fantasma era sempre nella casa e sebbene fosse oramai pressoché un povero invalido era ben lungi dal volere lasciare andare le cose come erano tanto più da quando aveva saputo che tra gli ospiti si trovava il giovane duca di Keshire il cui prozio Lord Francis Stilton aveva scommesso una volta cento guinee con il collinello Carburi che avrebbe giocato ad Adi con il fantasma di Canterby ed era stato trovato l'indomani disteso sul pavimento della sala da gioco totalmente paralizzato e benché fosse vissuto poi fino a tarda età non fu più in grado di dire altro che doppio sei l'episodio in quell'epoca era stato universalmente risaputo per quanto per rispetto ai sentimenti delle due nobili famiglie si era fatto di tutto per mettere a tacere la cosa e si possono anzi trovare tutti i particolari relativi a questo tragico evento nel terzo volume di Lord Tattle intitolato ricordi del principe reggente e dei suoi amici il fantasma era dunque logicamente molto ansioso di far vedere che egli non aveva ancora perduta tutta la sua influenza sugli Stilton con i quali per giunta era lontanamente imparentato avendo una sua prima cugina sposato in seconde nozze il sire il sire di Barclay dal quale come tutti sanno discendono in linea genealogica i duchi di Keshire predispose quindi ogni cosa per comparire al piccolo innamorato di Virginia nella sua famosa parte del monaco vampiro ovvero il benedettino distanguato visione talmente orrenda che quando la vecchia Lady Sartap la scorse il che accadde in una fatale vigilia di capodanno dell'anno 1764 diede in acute strida di spavento che culminarono in un violento attacco di apoplessia e la disgraziata nobile donna decedette in capo a tre giorni dopo aver diseredato il Canterville che erano i suoi parenti più prossimi e lasciando invece tutto il proprio denaro al suo speziale londinese all'ultimo momento tuttavia l'incubo dei gemelli gli impedì di abbandonare la sua camera segreta nell'ala sinistra del castello e il giovane duca dormì in pace i suoi rose e i sonni sotto il baldacchino piumato della camera regale e poté sognare di Virginia indisturbato fine del quarto capitolo capitolo quinto pochi giorni dopo questi avvenimenti Virginia e il suo ricciuto cavaliere uscirono a cavallo sui prati di broccoli dove la fanciulla si strappò così malamente la veste di amazzone nel saltare una siepe che di ritorno a casa preferì passare dalla scala di servizio per non essere vista in quella guisa mentre attraversava di corsa il vestibolo attiguo al salone delle tappezzerie la cui porta era per caso aperta ebbe l'impressione di vedervi dentro qualcuno e pensando si trattasse della cameriera di sua madre che qualche volta si metteva a lavorare lì affacciò la testa per chiederle di rattoparle il vestito ma con sua immensa sorpresa si trattava invece del fantasma di canterville in persona era seduto accanto alla finestra assorto nella contemplazione dell'oro consunto degli alberi e della danza impazzita delle foglie rosse giù per il lungo viale teneva la testa appoggiata ad una mano e tutto il suo atteggiamento esprimeva uno stato di depressione indicibile aveva un aspetto tanto misero e tanto mal ridotto che la piccola virginia il cui primo impulso era stato di fuggire si sentì invadere da una profonda compassione e decise di cercare di confortarlo il passo della fanciulla era così leggero e così greve era la malinconia dello spettro che questi non si accorse della sua presenza finché lei non gli ebbe rivolta la parola mi spiace tanto per lei incomincia virginia ma i miei fratelli ritornano domani a eton e perciò se lei si comporterà come si deve nessuno la disturberà comportarmi come si deve replicò il fantasma volgendosi stupito a guardare la graziosa fanciulla che aveva avuto il coraggio di parlargli è semplicemente ridicolo chiedermi una cosa simile io devo far risuonare le mie catene e mugolare attraverso i buchi delle serrature e passeggiare di notte per la casa se è questo ciò a cui tu alludi è la mia unica ragione di esistere non è affatto una buona ragione e lei sa benissimo di essere stato molto ma molto cattivo ce lo disse la signora Humley proprio il giorno del nostro arrivo che lei ha assassinato sua moglie beh lo ammetto rispose il fantasma con petulanza ma si tratta di una pura e semplice questione di famiglia che non riguarda nessun altro è un grave peccato ammazzare chi che sia osservò Virginia la quale aveva a volte una dolce gravità puritana ereditata forse da un suo lontano antenato della nuova Inghilterra oh io non posso soffrire la severità mon mercato dell'etica stratta mia moglie era una donna bruttissima non mi inamidava mai i miei ruchet come piaceva a me e non capiva un H in fatto di cucina perbacco avevo preso un daino magnifico nella foresta di Hogli un due anni superbo e vuoi sapere come me lo fece servire in tavola beh ormai la cosa non ha più importanza è passato tanto tempo da allora e non trovo che sia stato molto carino da parte dei suoi fratelli farmi morire di fame anche se gli avevo accoppata la sorella l'hanno fatta morire di fame signor fantasma Sir Simon voglio dire vuole mangiare qualcosa ho nella mia borsetta un panino imbottito posso offrirglielo no grazie ormai non mangio più nulla comunque è un gesto molto gentile il tuo e tu sei immensamente più carina di tutto il resto della tua orribile villana volgare disonesta famiglia no smetta gridò virginia picchiando un piede per terra è lei invece maleducato orribile e volgare e in quanto a disonestà lei sa benissimo che ha rubato tutti i colori della mia scatola di pittura per tenere lustra e forbita quella ridicola macchia di sangue sul pavimento della biblioteca all'inizio mi ha preso tutti i rossi compreso il vermiglio in modo che non ho più potuto fare nessun tramonto poi mi ha soffiato il verde smeraldo e il giallo cromo e alla fine non mi era rimasto più che l'indaco e il bianco di Cina e non mi restava altro da fare che dipingere paesaggi al chiaro di luna che sono molto deprimenti da guardare e per giunta difficilissimi da ritrarre io non l'ho mai sbugiardata davanti agli altri però e ho sempre taciuto benché fossi estremamente seccata e trovassi la cosa semplicemente assurda perché infatti chi ha mai visto una macchia di sangue color verde smeraldo a dire la verità replicò il fantasma alquanto confuso che altro potevo fare è una cosa complicatissima oggigiorno trovare del sangue vero e dal momento che era stato tuo fratello Washington a incominciare con il suo maledetto detersivo incomparabile non vedevo il motivo per cui non avrei dovuto adoperare i tuoi colori in quanto al colore poi è una pura questione di gusto noi Canterville per esempio abbiamo sangue blu il sangue più blu di tutta l'Inghilterra ma io lo so che a voi americani queste differenze di tinta non interessano lei non sa nulla di ciò che interessa a noi e la cosa migliore che dovrebbe fare sarebbe quella di emigrare e migliorare il suo cervello mio padre non sarà che troppo felice di procurarle un passaggio gratuito e per quanto vi sia una forte tassa sugli spiriti e gli alcolici in genere l'ufficio della Dogana non le farà difficoltà dato che i funzionari sono tutti democratici una volta a Nova York stia certo che avrà un successo formidabile conosco un sacco di gente che darebbe centomila dollari per avere un nonno figurarsi poi se potesse trovare un fantasma di famiglia non credo che l'America mi piacerebbe forse perché noi non possediamo né rovine né curiosità artistiche osservò Virginia con tono sarcastico né rovine né curiosità replicò il fantasma ma avete la vostra marina e le vostre maniere buonasera vado a chiedere a papà di concedere ai gemelli una settimana di vacanza supplementare oh ti prego non te ne andare Virginia gridò lo spettro sono tanto solo infelice e proprio non so quello che devo fare vorrei tanto andare a dormire e non posso questo è semplicemente ridicolo non ha che da mettersi a letto e spegnere la candela qualche volta è molto difficile stare svegli soprattutto in chiesa ma non è affatto difficile addormentarsi come persino i bambini sanno come si fa e sì che non hanno l'intelligenza ancora molto sviluppata io non dormo da 300 anni disse tristemente il fantasma e i begli occhi celesti di Virginia si spalancarono dallo stupore da 300 anni non posso dormire e sono stanco Virginia si fece molto seria e le sue dolci labbra tremarono come petali di rosa si accostò gli si inginocchiò a fianco e lo fissò nel vecchio volto avvizzito povero povero fantasma mormorò con tenerezza non c'è proprio un luogo dove possa trovare sonno lontano di qua oltre la pineta rispose il fantasma con voce sommessa e sognante c'è un piccolo giardino laggiù l'erba cresce lunga e folta il fiore della cicuta vi allarga le sue grandi stelle bianche l'usignolo vi canta tutta la notte tutta la notte canta e la fredda luna di cristallo si china a guardare e l'albero del tasso distende le sue braccia gigantesche sui dormienti gli occhi di virginia si appannarono di lacrime ed essa si nascose il volto tra le mani lei sta parlando del giardino della morte mormorò sì la morte oh la morte deve essere tanto bella poter giacere nella morbida terra bruna con gli steli dell'erba che si agitano leggeri sopra il tuo capo e ascoltare il silenzio non avere né ieri né domani dimenticare il tempo perdonare la vita essere in pace tu potresti aiutarmi potresti aprire per me i battenti della casa della morte poiché l'amore vi sta sempre vicino e l'amore è più forte della morte virginia tremò un brivido glaciale le serpeggiò per la schiena e per alcuni attimi regnò tra loro un silenzio sepolcrale la fanciulla ebbe la sensazione di vivere come in un sogno terrificante poi il fantasma riprese a parlare e la sua voce assomigliava al sospiro del vento hai mai letto l'antica profezia che sta sulla finestra della biblioteca oh sì esclamò virginia alzando vivacemente il capo tante volte la conosco benissimo è dipinta in strane lettere nere ed è difficile da leggersi non sono che sei versi quando una fanciulla bionda strapperà la preghiera dalle labbra del peccato quando il mandorlo inaridito rifiorirà e un'innocente creatura verserà lacrime ritornerà tranquilla la dimora e la pace scenderà su canterville però non so che cosa significhino significano disse tristamente il fantasma che tu devi piangere per i miei peccati perché io non ho lacrime e pregare con me per la mia anima perché io non ho fede e poi se tu sarai stata sempre buona dolce e gentile l'angelo della morte avrà pietà di me tu vedrai nell'oscurità ombre paurose e voci malvagie ti sussurreranno all'orecchio ma esse non ti faranno male poiché contro la purezza di una creatura innocente le forze dell'inferno non possono prevalere virginia non rispose e il fantasma si torse le mani in preda alla disperazione guardando l'aureo capo reclino della fanciulla improvvisamente questa si alzò pallidissima con una strana luce negli occhi io non ho paura disse con fermezza chiederò all'angelo di avere pietà di te il fantasma si levò con un debole grido di gioia le prese la mano e inchinandosi gliela baciò con grazia antiquata le sue dita erano fredde come il ghiaccio e le labbra bruciavano come fiamma ardente ma virginia non tremò mentre lui la guidava attraverso la sala immersa nel crepuscolo sul verde sbiadito della tapezzeria erano ricamati minuscoli cacciatori essi suonarono i loro corni ornati di nappe e con le piccole mani le fecero cenno di tornare indietro torna indietro piccola virginia gridarono torna indietro il fantasma le strinse ancora più saldamente la mano e le chiuse gli occhi alle loro lusinghe animali immondi con code di lucertole e occhi sgusciati la fissarono di soppiatto dalla cornice del caminetto scolpito e mormorarono attenta piccola virginia attenta potrebbe darsi che non ti vediamo mai più il fantasma accelerò la sua silenziosa fuga e virginia non gli diede retta quando furono arrivati in fondo alla sala egli si fermò e borbotò alcune parole incomprensibili allora virginia aprì gli occhi e vide il muro dissolversi lentamente come una nebbia e una grande caverna nera aprirsi dinanzo a lei un vento impetuoso e gelido li investì ed essa sentì qualcosa che la tirava per il lembo del vestito presto presto gridò il fantasma altrimenti sarà troppo tardi un istante dopo il rivestimento di legno si era già richiuso sopra di loro e la sala delle tappezzerie era vuota fine del quinto capitolo capitolo sesto circa dieci minuti più tardi suonò la campana per il tè e poiché virginia non si fece vedere miss Otis mandò di sopra uno dei valletti a cercarla ma questi tornò di lì a poco dicendo che non aveva trovato la signorina virginia da nessuna parte poiché essa aveva l'abitudine di scendere ogni sera in giardino a raccogliere i fiori per la tavola miss Otis non si preoccupò affatto a tutta prima ma quando scoccarono le sei e virginia non comparve ancora cominciò ad agitarsi seriamente e mandò i ragazzi a cercarla mentre lei e mister Otis frugavano ogni angolo della casa alle sei e mezza i ragazzi tornarono senza aver trovato la minima traccia della sorella erano tutti ora in uno stato di grande agitazione e non sapevano più che fare e dove andare quando mister Otis si rammentò ad un tratto di aver dato il permesso pochi giorni prima ad una tribù di zingari di accamparsi nel parco partì quindi subito per Blackfell Hollow dove si trovavano gli zingari una spedizione composta di lui stesso di suo figlio maggiore e di due garzoni di fattoria il piccolo duca di Keshaer che l'angoscia aveva reso letteralmente pazzo supplicò disperatamente che gli fosse concesso di accompagnarli ma mister Otis non glielo permise perché temeva che ci sarebbe stato un po' di parapiglia giunto però sul posto non gli rimase che constatare che gli zingani se ne erano andati e anzi a giudicare dalle apparenze la loro partenza doveva essere recente ed è terminata da cause improvvise perché il fuoco da campo era ancora acceso e sul prato erano sparse vettovaglie mandò allora Washington e i due uomini a frugare la regione mentre egli correva a casa a spedire telegrammi a tutti gli ispettori di polizia della contea supplicandoli di ricercare una fangiulla che doveva essere stata certamente rapita da una banda di zingari o di vagabondi fece sellare il cavallo e dopo aver insistito perché sua moglie e i figli si mettessero a tavola si avviò lungo la strada di Ascot accompagnato da un ragazzo di scuderia non aveva percorso un paio di miglia quando sentì un risonare di zoccoli alle sue spalle si volse e vide che il giovane duca di Keshair lo aveva raggiunto in groppa al suo puledro tutto infuocato in viso e senza berretto la supplico mister Otis lo implorò il ragazzo ma io non posso mangiare finché Virginia non è stata ritrovata la prego non sia in collera con me se lei ci avesse permesso di fidanzarci l'anno scorso questa disgrazia non sarebbe successa non mi rimanderai indietro vero? non posso tornare indietro non voglio il ministro non poté trattenersi dal sorridere alla vista di quel monello così pieno di ardire e di grazia giovanile lo commuoveva anche profondamente la sua devozione per Virginia si chinò dunque sulla sella gli batte amichevolmente sulle spalle e gli disse va bene Cecil se non vuoi proprio tornare indietro immagino che dovrò lasciarti venire con me però appena saremo ad Ascot bisognerà che ti trovi un cappello io voglio trovare Virginia altro che cappello ribattei il giovane duca ridendo e insieme proseguirono al galoppo verso la stazione ferroviaria lì giunti mister Otis si informò presso il capostazione se fosse stata vista sulla banchina una ragazza corrispondente alla descrizione che fece di Virginia ma nessuno seppe dirgli nulla di preciso il capostazione si affrettò tuttavia a telefonare a tutti i posti di servizio della linea e gli assicurò che si sarebbe fatto l'impossibile per trovarla dopo aver acquistato un cappello per il giovane duca presso un mercante di articoli vari che stava per chiudere i battenti mister Otis proseguì la sua corsa a cavallo verso Bexley un villaggio distante circa 4 miglia che gli era stato descritto come una delle località preferite di solito dagli zingari essendo situato presso una grossa borgata andarono a svegliare la guardia campestre ma non poterono ottenere da lei alcuna informazione utile e dopo aver perlustrato l'intera borgata puntarono i musi dei cavalli sulla via di casa e furono di ritorno alla Chase verso le 11 di sera stanchi morti e col cuore affranto Washington e i gemelli li stavano aspettando alla cancellata muniti di lanterne poiché il viale era completamente al buio di Virginia neppure la minima traccia gli zingari erano stati raggiunti sui prati di Broxley ma la fanciulla non era con loro ed essi poterano spiegare la loro partenza improvvisa giustificandosi di essersi sbagliati sulla data della fiera di Corton se ne erano andati in fretta e furia per timore di arrivare in ritardo anzi si erano mostrati molto addolorati nella prendere la scomparsa di Virginia poiché erano molto riconoscenti a mister Otis che aveva permesso loro di accamparsi nel parco e quattro di essi erano rimasti indietro per aiutare nelle ricerche lo stagno delle carpe era stato sondato l'intera località era stata perlustrata da cima a fondo ma senza alcun risultato era evidente che per qualche notte almeno Virginia era perduta per loro e fu in uno stato di profonda depressione che mister Otis e i ragazzi si avviarono verso il castello seguiti dal garzone di scuderia che teneva per le briglie i due cavalli e il puretro nel vestibolo trovarono un gruppo di domestici spaventati e sul divano del salotto miss Otis quasi fuori di sé per la paura e l'inquietudine che si faceva bagnare continuamente la fronte dalla vecchia governante di casa con compresse d'acqua e di colonia mister Otis volle che sua moglie si sforzasse a mangiare qualcosa a tutti i costi e ordinò la cena per l'intera famiglia fu un pasto malinconico nessuno parlò persino i gemelli erano ammutoliti e desolati perché erano affezionatissimi alla loro sorellina quando ebbero finito di pranzare malgrado le suppliche e le preghiere del piccolo duca mister Otis volle che andassero tutti quanti a coricarsi perché disse quella notte non restava nulla di meglio da fare il mattino seguente avrebbero telefonato subito a Scotland Yard perché gli mandassero al più presto degli agenti investigativi proprio nel momento in cui uscivano dalla sala da pranzo la mezzanotte incominciò a rintoccare dall'orologio della torre e quando scoccò l'ultimo colpo si sentì un boato e un grido subitanio acutissimo uno spaventevole scoppio di tuono scosse la casa un accordo di musica celeste e cheggione l'aria un pannello in cima alla scalinata si spalancò con grande fragore e sul pianerottolo apparve Virginia pallida e bianca con un piccolo scrigno tra le mani in un attimo tutti le furono intorno Miss Otis la strinse appassionatamente a sé il duca quasi la soffocò di baci mentre i gemelli eseguivano intorno al gruppo una selvaggia danza guerriera ma in nome di Dio bambina dove sei stata gridò Mr. Otis furibondo poiché pensava che sua figlia si fosse divertita a giocare loro un brutto scherzo Cecil ed io abbiamo corso per tutta la contea in cerca di te e tua madre è quasi morta di paura non devi più fare tiri del genere tranne che al fantasma tranne che al fantasma urlarono i gemelli saltabeccandole intorno come due capretti tesoro mio grazie al cielo sei di nuovo qui con noi non devi più staccarti da me mormorò Miss Otis baciando la figliola che tremava tutta e lisciando l'oro arruffato dei suoi capelli papà spiegò Virginia con voce tranquilla sono stata col fantasma adesso è morto e bisogna che tutti voi veniate a vederlo è stato molto cattivo ma si è sinceramente pentito di tutto il male che ha commesso e mi ha data questa bellissima scatola piena di gioielli prima di morire tutti la fissarono sbalorditi ma Virginia era molto calma e seria e volgendosi li guidò attraverso l'apertura formatasi nel rivestimento di legno giù per un angusto corridoio segreto Washington illuminava il cammino con una candela accesa che aveva tolto dalla tavola giunsero infine a una grande porta di quercia tempestata di borchie rugginose non appena Virginia l'ebbe toccata questa girò sui pesanti cardini e tutti si trovarono in una stanzetta bassa dal soffitto avvolta munita di un'unica finestrella agrata un enorme anello di ferro era infisso nel muro e incatenato ad esso stava un lunghissimo scheletro disteso in tutta la sua lunghezza sul pavimento di pietra pareva stesse cercando di afferrare con le dita rattrappite una brocca e un tagliere di foggia antica che erano stati messi fuori dalla sua portata la brocca doveva essere stata piena d'acqua un tempo perché era coperta internamente di una muffa verdastra sul tagliere non era rimasto che un mucchietto di polvere virginia si inginocchiò accanto allo scheletro e congiungendo le sue piccole mani prese a pregare in silenzio mentre gli altri stavano a contemplare stupefatti la terribile tragedia il cui segreto era finalmente chiaro a tutti ehi esclamò a un tratto uno dei gemelli che si era messo a guardare fuori dalla finestra per cercare di capire in quale ala del castello si trofasse precisamente quella stanza guardate un po' il vecchio mandorlo secco è tutto un boccio vedo benissimo i fiori alla luce lunare Dio gli ha perdonato disse gravemente Virginia levandosi in piedi e una luce sopranaturale parve per un attimo illuminarle il volto che angelo sei gridò il giovane duca e le mise un braccio intorno al collo e la baciò fine del sesto capitolo capitolo settimo quattro giorni dopo il verificarsi di questi strani avvenimenti un funerale mosse da Canterville Chase verso le undici di notte il carro funebre era tirato da otto cavalli neri ciascuno dei quali recava in capo un gran ciuffo svolazzante di piume di struzzo e il cofano di piombo era ricoperto di un ricco drappo color porpora sul quale erano ricamate in oro le insegne dei Canterville al lato del carro e degli equipaggi camminavano i domestici con torce accese tutta la processione aveva un aspetto estremamente suggestivo lord Canterville apriva il corteo era venuto apposta sin dal Galles per presenziare alle sequie e sedeva nel primo cocchio insieme con la piccola Virginia seguivano poi il ministro degli stati uniti e sua moglie quindi Washington e i tre ragazzi e finalmente nell'ultima vettura la signora Romney era opinione generale che dal momento che la povera donna era stata spaventata dallo spettro per oltre 50 anni aveva il diritto di accompagnarlo di persona alla sua ultima e definitiva dimora una grande fossa era stata scavata in un angolo del cimitero proprio sotto il vecchio albero di Tasso e il rito funebre fu celebrato con grande solennità dal reverendo Augusto Dampier quando la cerimonia ebbe termine i domestici secondo un'antica tradizione della famiglia dei Canterville spensero le torce e mentre la bara veniva calata nella tomba Virginia si fece innanzi e vi pose sopra una grande croce fatta di rami di mandorlo intrecciati bianchi e rosa in quel momento la luna uscì da dietro una nuvola inondando della sua argente a silenziosa luce il piccolo cimitero e da un boschetto lontano un usignolo prese a cantare la fanciulla si rammentò della descrizione che il fantasma le aveva fatto nel giardino della morte i suoi occhi si riempirono di lacrime e fu molto se proferì una sola parola nel cammino di ritorno verso casa e il mattino seguente prima che Lord Canterville rientrasse in città Mr. Otis volle avere un colloquio con l'antico proprietario del castello a proposito dei gioielli che il fantasma aveva regalato a Virginia si trattava di gioielli meravigliosi soprattutto una certa collana di rubini con un'antica montatura veneziana un esemplare veramente splendido di orificeria del secolo sedicesimo il cui valore era così enorme che Mr. Otis provava grande scrupolo a permettere che sua figlia lo accettasse mio caro lord disse a Lord Canterville so che nel suo paese la mano morta si applica non soltanto alla terra ma a qualunque bagatella perciò mi rendo perfettamente conto che questi gioielli sono o perlomeno dovrebbero essere eredità della sua famiglia io mi sento pertanto tenuto a chiederle di portarli a Londra con sé e di considerarli semplicemente come una parte di beni di sua proprietà che lei stata restituita in circostanze insolite in quanto alla mia figliola non è che una bambina e per il momento non sente per fortuna alcuna inclinazione per inutili oggetti di lusso inoltre mia moglie che in fatto di arte non è un'autorità da poco avendo avuto il privilegio da ragazza di passare a Boston numerose stagioni invernali mi ha fatto presente che si tratta di gemme di grande pregio monetario che potrebbero rendere immensamente se vendute ad un intenditore tenuto conto di tutto ciò mio caro Lord Canterville sono certo che lei comprenderà benissimo come io non possa permettere che esse rimangano in possesso di un membro della mia famiglia del resto orpelli e cianfrusaglie simili per quanto adatti o necessari alla dignità della ristorgrazia britannica sarebbero assolutamente fuori luogo tra gente che è stata educata in severi e secondo me immortali principi della semplicità repubblicana la pregherei solamente di lasciarmi la scatola perché Virginia è desiderosa di conservarla come ricordo del suo infelice e traviato antenato d'altro canto è una scatola molto vecchia e in pessimo stato e spero che non avrà alcuna difficoltà ad accondiscendere alla sua richiesta per quel che mi concerne confesso che sono molto stupito che una mia figliola dimostri simpatia per una qualsivoglia forma di medievalismo e posso spiegarmi la cosa solo con il fatto che Virginia è nata in uno dei vostri somorghi londinesi poco dopo un viaggio di mia moglie ad Atene Lord Canterville stette ad ascoltare molto gravemente il discorso del degno ministro tirandosi di tanto in tanto i baffi grigi per nascondere un sorrisetto involontario e quando mister Otis ebbe finito gli strinse cordialmente la mano e disse mio caro ministro la sua graziosa figliola ha reso al mio sfortunato avo Sir Simon de Canterville un servigio inestimabile e la mia famiglia ed io ci sentiamo infinitamente in debito con lei per il coraggio e il sangue freddo che ha saputo dimostrare è indubbio che i gioielli le appartengano sacrosantamente e perbacco io credo che se fossi tanto crudele da portargli e li via quel sacripante di un mio trisavolo salterebbe fuori dalla sua tomba in capo a quindici giorni e mi farebbe vedere i sorci verdi per tutto il resto della mia esistenza in quanto al fatto che siano beni mobili spettanti per tradizione all'erede legale non è ritenuto bene mobile per tradizione tutto quanto non è citato in un testamento o documento legale e l'esistenza di queste gemme è sempre stata ignorata le garantisco di non aver maggior diritto a reclamarli come miei di quanto non ne possa avere il suo maggiordomo e quando la signorina Virginia sarà cresciuta sono certo che sarà contente di avere delle belle cose da mettersi addosso del resto mister Otis lei sta dimenticando di aver acquistato castello e fantasma in blocco perciò qualunque cosa fosse appartenuta al fantasma diventava sua automaticamente infatti qualunque fosse l'attività esplicata da Sir Simon in corridoio durante la notte agli effetti della legge egli era ben morto e perciò lei aveva acquistato la sua proprietà per diritto di compera mister Otis si rammaricò moltissimo del rifiuto di Lord Canterville e lo pregò di recedere dalla sua decisione ma l'onesto nobiluomo fu irremovibile infine il ministro si persuasi ad accettare il dono che il fantasma aveva fatto a sua figlia e quando nella primavera del 1890 la giovane duchessa di Keshire fu presentata per la prima volta a corte in occasione del suo matrimonio i suoi gioielli furono l'oggetto dell'ammirazione generale Virginia aveva infatti ricevuto la corona nobiliare che è la meta più ambita di tutte le buone piccole bambine americane sposandosi con il suo piccolo innamorato non appena questi aveva raggiunto la maggiore età erano entrambi così carini e si volevano tanto bene che tutti rimasero entusiasti di quel matrimonio all'infuori della vecchia marchesa di Wimbledon che aveva cercato di accalappiare il duca per una almeno delle sue sette figlie zitelle e aveva dato a questo scopo non meno di tre costosissimi pranzi e strano a dirsi all'infuori dello stesso mister Otis personalmente il ministro degli stati uniti nutriva per il giovane duca una simpatia vivissima ma in teoria era contrario ai titoli e per usare le sue parole aveva il timore che in mezzo alla debilitante influenza di un'aristocrazia assetata di piaceri i sani principi della semplicità repubblicana venissero a poco a poco dimenticati le sue obiezioni tuttavia furono smantellate a una a una e io credo che mentre si avviava su per la navata della chiesa di San Giorgio in Hanover Square con sua figlia al braccio non c'era un uomo più orgoglioso di lui in tutta l'Inghilterra i giovani duchi terminato il loro viaggio di nozze venero a Canterville Chase e lo stesso giorno del loro arrivo nel pomeriggio si recarono al piccolo cimiterio solitario presso la Pineta da principio vi erano state non poche difficoltà a proposito dell'iscrizione per la pietra tombale di Sir Simon ma alla fine si era deciso di incidervi sopra semplicemente le iniziali del vecchio gentiluomo unitamente ai versi dipinti sulla finestra della biblioteca la duchessa aveva portato con sé alcune rose bellissime che sparsi sulla fossa e dopo essere rimasti per qualche istante immersi in un raccoglimento silenzioso i due giovani si avviarono passo passo verso il coro in rovina dell'antica abazia qui la duchessa sedette su una colonna caduta mentre suo marito le si accoccolò ai piedi a fumare una sigaretta e a guardarla nei dolcissimi occhi improvvisamente il giovane buttò la sigaretta le prese una mano e le disse Virginia una moglie non dovrebbe aver nessun segreto per il proprio marito ma mio caro Cecil io non ho segreti per te sì che ne hai le rispose il giovane sorridendo tu non mi hai detto quello che è accaduto quando ti sei chiusa lassù col fantasma non l'ho mai detto a nessuno Cecil rispose Virginia gravemente lo so ma a me potresti dirlo oh ti prego non chiedermi nulla Cecil non posso dirtelo povero Sir Simon io gli debbo moltissimo sì non ridere Cecil e proprio come ti dico egli mi ha fatto comprendere che cos'è la vita e che cosa significa la morte e perché l'amore sia più forte dell'una e dell'altra il duca si alzò e baciò appassionatamente sua moglie tieniti pure il tuo segreto fino a quando io potrò avere il tuo cuore mormorò il mio cuore tu l'hai sempre avuto Cecil però ai nostri bambini lo racconterai un giorno vero? Virginia Arrossì Fine del racconto